Musica Ti piace regalare scarpe? Sì Un regalo è sempre una cosa che mi piace fare Producendole non molto, però... No Sì Sì, anche se è un bel azzardo Quindi se sono strassicura, sì Altrimenti magari sondo un po' il terreno Sì No, perché sono molto personale e soggettiva Per cui abito Sì